Ciao e oggi vi mostro un metodo per fare tanta esperienza nella raccolta delle pelli e quindi anche fare poi di conseguenza parecchie pelli. Dovete recarvi in un certo punto. Dunque dobbiamo andare qui al santuario della falce voltale per poi andare in questo punto qui dove c'è scritto cima verdeggiante. Vedete che c'è questo punto di riferimento inesplorato, devo ancora arrivarci. Quindi adesso andiamo lì e poi andiamo a piedi. Mimbo! Oh, no! Allora, intanto prendiamo la pelle del grizzly Dunque ragazzi, se rimanete fuori poi dalla grotta Il grizzly dovrebbe ripippare Secondi o minuti Adesso non ho Comunque rimbrivo per me Quindi adesso vi uccido Vi faccio vedere quanta esperienza vi dà Intanto vi invito come sempre a iscrivervi al canale Se ancora non l'avete fatto A mettere un mi piace a questo video E a condividerlo con i vostri amici Ciao a tutti e alla prossima Ricordate di venire sempre con l'inventario La borsa vuota Perché A me ne prendete tanto Io adesso ce l'ho abbastanza piena Però vabbè Guardate Ha dato quasi un livello È fantastico qua Come si riesce ad alzare su velocemente Appunto La skill Delle pelli Vabbè Adesso io mi metterò fuori Aspetterò qualche Un minuto Un paio di minuti Poi adesso non so con precisione Però non è tantissimo Che lui riporta E per una risotturazione Così velocemente Tiriamo su Appunto La scogliatura Allora ragazzi Quindi Fate questo qui Laterale Alla grotta Adesso vi faccio vedere Dove mi trovo E poi quello dentro la grotta E brevemente Dunque quella grotta è qua Se riuscissi a salire magari Aspettate Allora facciamo un giro Un po' più largo Qua E qui sotto appunto C'era l'altro orso In questo momento dovrebbe Ecco vedete Era lì Non so se ce ne sono anche altri In zona Ma ci sono anche i cervi Volendo Quindi fate un po' Affinché Questo qua All'interno della grotta Non ritorna Non ripoppa Meglio darsi una curata Vedete è già ripoppato Quindi è molto semplice Da anche una bella esperienza Per quanto riguarda il livellamento Ma soprattutto appunto Per tirare su La scogliatura Ok ragazzi Per oggi è tutto Vi ringrazio Vi invito come sempre A mettere un bel mi piace A questo video E a iscrivervi al canale Se ancora non l'avete fatto E naturalmente Attivate tutte le campanelle Per rimanere sempre Aggiornate su tutti i video Che vado a mettere Ciao a tutti Alla prossima